Mister Agelo Paone, grande campione del passato ma anche come allenatore sta avendo le sue grandi soddisfazioni. Vincitore assoluto al termine di una partita meravigliosa sotto il profilo tattico, tecnico, agonistico e spettacolare. Sì, tanto grazie. Sono contento per la prestazione dei ragazzi. Conosciamo la forza dell'avversario, la prima in classifica. Noi abbiamo preparato in settimana la partita tatticamente e tecnicamente in questo modo. Sono veramente contento perché i ragazzi, nonostante le tante assenze per problemi familiari, hanno dimostrato di avere un grande carattere, di seguire alla lettera quello che io chiedo durante la settimana e quello che io ho chiesto oggi in campo. Il pubblico penso che sia divertito, ha visto una bella partita da ambo le parti e torno a ripetere, mi sento di dire bravi e grazie a questi ragazzi che hanno meritato e penso che non abbiamo rubato nulla proprio la vittoria. Non tutte le ciambelle escono col buco. Oggi il borgo grecanico le ha tentate tutte per agguantare almeno il pareggio che ci poteva stare, ma questo è un altro paio di maniche. Sentiamo invece come la pensa il trainer del borgo grecanico meridese, Antonio Cormaci. Per chi non se ne fosse accorto, tutte le partite che rimangono, tutte le partite che dobbiamo ancora affrontare sono difficili. Sapevamo pure che affrontavamo una squadra come la Bovesi in un derby, i derby poi lasciano fuori ogni ragionamento, perché in quanto tali, poi loro giustamente dopo il 4-0 che gli avevamo inflitto all'andata sicuramente volevano rifarsi. O non a loro che sono riusciti a portare a casa i tre punti, però devo dire pure che ci poteva stare un rigore su Sgro, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, sicuramente non abbiamo regalato secondo me tutti i due gol, quindi questo è il momento in cui probabilmente si guarda più la classifica. Se noi iniziamo a guardare solo la classifica facciamo dettagli, noi dobbiamo concentrarci a giocare palla su palla invece, cosa che dico durante la settimana, cosa che dico quotidianamente.